CERCATE PRIMA IL REGNO E LA GIUSTIZIA DI DIO E TUTTE QUESTE COSE VI SARANNO DATE IN PIÙ MATTEO 6 VERSO 33 TUTTE LE COSE Consideriamo insieme queste parole tratte dal versetto in esame. Le promesse e le dichiarazioni della parola di Dio offrono la certezza più completa che nulla sfugge o è escluso dal piano di provvidenza del Padre Celeste per i Suoi figli. Questo significa che nulla di ciò che ci sia veramente necessario verrà a mancarci. Proprio così, quanto promesso include proprio ogni necessità materiale di cui abbiamo bisogno. Purtroppo molti, a volte è capitato anche a me, non fidando pienamente nella parola diventano ansiosi. Oggi, quanto a nostra disposizione è più che sufficiente, ma soltanto l'ombra di un possibile bisogno in futuro ci fa precipitare nell'ansia e nello sconforto. Temiamo che la vecchiaia, trovandoci impreparati, ci sorprenda nelle ristrettezze. Per questo il Signore ci ammonisce, esortandoci a ricercare il Suo regno e a preoccuparci di vivere giustamente al Suo cospetto, mentre Egli, da parte Sua, si farà carico delle nostre necessità, provvedendoci di più di quanto faccia per i giri dei campi e i passeri del cielo. Matteo 10, verso 31 Dio non è un uomo che può mentire, e se ci ha fatto queste promesse, possiamo essere più che certi della loro realizzazione. Nessuna persona o autorità può esprimersi con tanta sincerità e certezza, poiché i cambiamenti repentini nella vita di un individuo o di una nazione possono vanificare anche i migliori propositi. La garanzia che nulla ci verrà a mancare è data dall'amore di Dio che ha immolato il Figlio Suo per noi, e considerando la natura e il valore di questo dono, nessun altro di minore importanza potrà essere minimizzato. Il nostro compito non è di preoccuparci, ma di confidare e ubbidire al Signore. Dio stesso ha detto Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13, verso 5 Che il nostro interesse non sia volto alla previsione delle nostre future condizioni, quanto al preoccuparci di camminare con integrità davanti a Dio, cercando costantemente il suo favore. Dio ci benedica. Dio ci benedica. Ci benedica. Dio ci benedica. Dio ci benedica. Il nostro compito non sia volto alla previsione delle nostre future condizioni.